Musica Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. In apertura andiamo a Teramo dove stentano a decollare i lavori per la ricostruzione post-sisma ad un anno dall'ottobre 2016 e dal terremoto si vede qualche cantiere ma solo per la messa in sicurezza di alcuni stabili per la vera ricostruzione di case e chiese si stima che debbano passare almeno 10 anni. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. È trascorso quasi un anno dal terremoto dell'ottobre 2016 e solo ora stanno partendo alcuni cantieri per la messa in sicurezza nel centro storico di Teramo. Iniziano a vedersi timide impalcature sui palazzi antichi nei corsi principali e su qualche campanile pericolante ma per la ricostruzione passeranno anni. Nascono nuovi cantieri in città, siamo però nella fase della messa in sicurezza. Sì, noi in questo momento stiamo andando avanti con la messa in sicurezza, stanno partendo vari cantieri sulla parte storica di Teramo e cerchiamo di scegliere progettazioni meno impattanti possibili. Ce ne sono alcuni che rimarranno per anni, invece altri cantieri dove saranno messe le famose catene quindi sono solo dei lavori che dureranno alcune settimane. Invece in altri rimarranno un pochettino più in vista dei manufatti che serviranno per mettere in sicurezza questi palazzi. E dopo la messa in sicurezza quando inizierà la vera ricostruzione? Questo è basato molto dalla progettazione e dal via libera dell'ufficio della ricostruzione. È basato su questo, quindi chiaramente noi chiediamo a questo ufficio di valutare prima possibile queste pratiche perché si possano iniziare i veri cantieri, cioè i cantieri all'interno per far sì che le persone possano tornare prima possibile. Palazzi ma anche chiese? Sì, abbiamo anche chiese, abbiamo anche campanili importanti, la chiesa è vicino a Largo Proconsole, condiziona quel campanile, cinque famiglie che hanno case sicure ma per colpa del campanile non possono rientrare. Quindi anche lì interveniamo immediatamente perché abbiamo avuto il via libera del Corre regionale, appunto perché una volta messo in sicurezza il campanile porteremo dentro queste cinque famiglie. In effetti l'ufficio regionale per la ricostruzione che opera a Teramo va parecchio a rilento. È una riflessione che fanno in tanti, amministratori e tecnici, ma soprattutto i cittadini. Sono gli anziani a soffrirne di più quando pensano che loro dieci anni per vedere la propria casa ricostruita forse non possono aspettarli. E adesso andiamo a Pescara all'interno del Tribunale dove questa mattina c'è stato un convegno organizzato da Aiga e da Associazione Penelope sul tema delle persone scomparse. È firmato anche un protocollo d'intesa fra le due associazioni che avrà valenza nazionale. Vediamo insieme il servizio. Benito della Penna, Valerio De Torre, Luca Spoto, Cesare Benedetti. Sono solo alcuni dei 462 nomi di persone scomparse nella nostra regione di cui non si ha più traccia. Circa 10 casi all'anno solo in Abruzzo se si conta dal 1974 ad oggi. Numeri che diventano giganteschi se si allunga lo sguardo. In Italia quasi 48.000 i casi risolti, sempre nello stesso periodo di tempo. Sulla sparizione delle persone però c'è una nuova legge del 2012 ed anche una nuova sensibilità che cresce. Lo testimonia e il protocollo d'intesa firmato questa mattina all'interno dell'Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara a conclusione dei lavori del convegno organizzato da Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, e dall'Associazione Penelope per approfondire il tema della tempestività delle ricerche, fondamentale per avere speranze di successo. E oggi con l'Associazione Penelope che da anni ormai lavora efficacemente nel campo delle persone scomparse, cerchiamo di dare un supporto per favorire un'attività precisa dei giovani legali nel primo momento in cui emerge una situazione di potenziale scomparsa anomala di una persona. Quindi attraverso questo protocollo, che è a livello nazionale, noi cercheremo di far sì che tutti gli avvocati facciano iniziative, ove possibile, finalizzate a stimolare la conoscenza del problema. Ma soprattutto si faccia anche formazione, in quanto è una normativa nuova, direi nuova un po' per tutti. Nessuno di noi l'ha studiata all'università, quindi ci sono stati regolamenti nuovi, leggi nuove, che è opportuno conoscere sia per ben consigliare i familiari delle persone scomparsi, sia soprattutto per fare anche da impulso. La sparizione è un dramma soprattutto per i familiari, una sofferenza che si legge benissimo negli occhi di chi aspetta ad anni la verità sul destino del proprio caro, come Vincenza Benedetti e Rosanna della Penna. È una cosa brutta, ha perduto un fratello, perché a Mangano gli mancava niente, stava insieme a noi, ci stavamo sempre dietro perché sapendo che lui non stava bene. E quel giorno, che era il 21, che è ritornato mio amore dall'ospedale, che si è messo tre bypassi, si è messo, gli stava mettendo il cirotto, ho sentito il cangiare l'aperto, sono andato fuori, preso la macchina ma non l'ho ritrovato. Siamo dalla mattina alla sera proprio niente, siamo per il centrale, siamo in tutte le parti, niente, 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 niente. Non ho che dire. E me lo pensiamo davanti agli occhi. 84 anni, non è che un ragazzino. Io vorrei che pure una scheggia di corpo che riuscisse, uno fa il funerale, ma in queste condizioni non si può vivere. Ci è stato detto, non si preoccupi in giornata, lo troviamo, dove vuole essere andato, nelle condizioni sue. Invece papà non si è trovato. Hanno visto, sì, nel raggio di un chilometro, lungo le strade, un 4-5 chilometri, però non è stato trovato. Io ho provato a dire allargate le ricerche, perché mi è venuto il dubbio su una strada che papà qualcuno abbia preso. E proseguiamo con una notizia di cronaca smantellata dalla polizia di Pescara, una organizzazione dedita le truffe ai danni di banche e società finanziarie. Sono 40 quelle scoperte che hanno fruttato al sodalizio oltre 300 mila euro. Gli elementi che hanno portato all'avvio dell'indagine nel novembre del 2015 e poi alla scoperta della banda sono emersi nell'ambito di un'altra attività investigativa della squadra mobile del capologo adriatico relativa ad un traffico di droga. I promotori del sodalizio, che aveva base a Pescara, sono due pregiudicati pescaresi di 46 e 64 anni e un foggiano di 57 anni che sono stati denunciati dalla squadra mobile e dal compartimento di polizia postale delle comunicazioni di Pescara per associazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di truffe. Altri 29 persone sono state invece denunciate per truffa in concorso. Il meccanismo di truffa si basava su un collaudato modus operandi, la banda individuava persone in difficoltà economiche e poi proponeva loro l'erogazione di un finanziamento attraverso una richiesta inoltrata a banche e società finanziarie di Pescara e Chieti. Successivamente queste persone venivano fornite di falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti per accedere ai finanziamenti e venivano accompagnate presso gli istituti bancari e finanziari dai componenti dell'organizzazione. Il sodalizio si occupava anche di assistere queste persone per rispettare gli ademplimenti burocratici. Una volta ottenuti i finanziamenti, una parte del compenso veniva ceduto ai membri dell'associazione mentre il soggetto beneficiario tratteneva la restante somma limitandosi poi a restituire solo le prime rate del rimborso. Complessivamente sono 32 gli indagati in questa indagine. Andiamo avanti, ci spostiamo a Chieti. La Regione Abruzzo ha stanziato 800 mila euro da destinare alla città in particolare al Teatro Maruccino e alle attività di Via Erasmo Piaggio. Il servizio è di Andrea Costantini. Assessore Paolucci, una novità importante dalla Regione Arrimano Fondi per il Teatro Maruccino e per le attività produttive di Via Erasmo Piaggio. Esatto, investiamo 800 mila euro, 200 mila euro per il Teatro Maruccino, 600 per la zona industriale di Chietiscalo e a mio avviso sottolinea questo impegno, questo ulteriore provvedimento approvato dall'Aggiunta regionale la particolare vicinanza ai territori, in questo caso ovviamente alla città di Chieti e al suo aspetto più produttivo, che sia culturale o proprio legato alle attività economiche e produttive di Chietiscalo. Ecco, ci avviciniamo poi a un momento importante per il Maruccino perché a gennaio ci sarà l'anniversario. Esatto, i 200 mila euro stanziati sono proprio rivolti alla celebrazione del bicentenario del Teatro Maruccino, ulteriori fondi sono già stati dati nei mesi passati per quanto riguarda l'attività ordinaria e ulteriori ne arriveranno anche nelle prossime settimane. È stato dato un ulteriore ossigeno a una parte della città che ne aveva bisogno per quanto riguarda il tessuto produttivo, lì in via Erasmo Piaggio diverse attività insistono. Esatto, è anche un segnale molto importante perché se si crede come l'accordo recente sulla Daico e con la Daico dimostra nelle attività produttive, nel ruolo delle grandi intraprese bisogna che le istituzioni siano vicine nel risolvere anche quelli che possono essere aspetti di funzionalità connessa come nel caso di specie la viabilità e la mobilità. A Montesilvano sono partiti oggi i lavori all'interno del complesso Stella Maris lavori attesi da decenni e che tenderanno a realizzare un convitto a disposizione dell'istituto alberghiero De Cecco di Pescara. Vediamo insieme. Sono partiti questa mattina i lavori allo Stella Maris di Montesilvano l'edificio sul lungomare sarà un convitto per l'Ipsir De Cecco, l'istituto alberghiero di Pescara. Il primo lotto finanziato con un milione di euro prevede il completamento di collegamenti verticali cioè dei vani ascensori e dei vani scale, la realizzazione degli impianti idrici, termici ed elettrici tra mezzi interni rispondenti alla nuova distribuzione prevista, poi la realizzazione di servizi igienici idonei, il completamento delle finiture, la sistemazione degli spazi di pertinenza esterni con la realizzazione anche di zone parcheggio, zone gioco e verde attrezzato completate da arredi urbani. Le aree esterne devono essere concepite per dialogare con il resto della città in particolare deve essere privilegiato il rapporto con il mare che è proprio lì a due passi di fronte all'edificio. Abbiamo ritenuto di dover procedere con la destinazione iniziale pensata dalla provincia attuale ed è quella appunto del convitto l'inverno per l'alberghiero De Cecco di Pescara e l'estate come colonia marina. In più avremo degli spazi sottostanti dove c'è il colonnato e lì ci sarà sicuramente lo spazio per l'attività ristorazione e l'attività bar, più alcuni spazi nella fusoliera che consentiranno attività didattica riferita a chi frequenterà questo bene per le finalità che ho appena elencato. Quindi abbiamo la convinzione di farcela per il 2018 perché abbiamo anche gli impegni sottoscritti con il masterplan. Tutti gli anni tra la fine di settembre e i primi di ottobre la provincia di Pescara deve effettuare un bando per poter individuare una struttura ricettiva, cioè un albergo più che altro nella zona di Montesilvano dove poter collocare i nostri studenti convittori che vengono da tutta la regione ma anche da fuori regione dal Molise e dalle Puglie. Questo significa un grosso esborso economico per la provincia e quindi per la collettività ma significa anche un grande disagio per i nostri ragazzi che si trovano sbattuti anno dopo anno in strutture sempre diverse ma soprattutto perdono quel senso di stabilità che è necessario ad una comunità educante. Adesso ci occupiamo delle aree di risulta di Pescara, un progetto quello portato avanti dal Comune che è oggetto di dibattito e di discussione in città. Ascoltiamo l'assessore Civitarese. Questi giorni si parla della trasformazione della città di Pescara, si parte dalle aree di risulta assessore Civitarese perché avete presentato un progetto di oltre 40 milioni di euro per ridisegnare questa zona centrale della città. Prevede sostanzialmente quello che noi chiamiamo il parco centrale, così sarà chiamata quest'opera ed è quello che è, un parco ricco di attrattive in cui c'è naturalmente una parte preponderante di vegetazione ma ci saranno anche attività ludiche, culturali. Un parco che sia quello che ci vuole per rendere questa parte della città effettivamente il cuore pulsante dell'area metropolitana. Il costo effettivamente è di 42 milioni, di questi c'è una parte, una quota di circa 11 milioni di fondi del cosiddetto master plan regionale, il resto è un finanziamento che si chiama finanza di progetto perché chi interviene, chi interverrà e si aggiudicherà la gara facendo un progetto che deve essere un progetto molto qualificante, molto bello, sarà giudicato da una commissione di esperti, poi dovrà gestire i parcheggi che verranno realizzati, che sono realizzati in piccola parte, 400 in interrato, gli altri su dei silos messi ai bordi dell'attuale era di risulta e quindi ai bordi del parco centrale e per il resto poi ci saranno naturalmente le opere di riabilità necessarie, il terminal dei bus extraurbani in interrato, quelli urbani invece in una porzione dell'area che è già oggetto di progettazione da parte di Tua con cui abbiamo fatto una concessione, il tutto anche in accordo con le ferrovie che approfittano di questa occasione, RFI e 100 stazioni per avviare la riqualificazione anche delle superfici della stazione. Da qui ai prossimi anni ci siamo dati come obiettivo strategico il 2027, 100 anni di Pescara, ma stiamo già lavorando da subito a questo obiettivo, un passaggio sostanziale dall'automobile inquinante e rumorosa al trasporto collettivo che passa dentro la città utilizzando sistemi moderni e naturalmente bicicletta e aree pedonali. Quindi questa è la prospettiva verso cui andiamo, nella quale queste aree strategiche, la parte appunto del parco centrale, il polo sud della città che sono anche come si dice hubs della mobilità, è come se fossero appunto dei punti connettivi di questa nuova strategia della mobilità che cambierà il volto di Pescara. Andiamo avanti e torniamo a Chieti, un bando innovativo da 70 milioni di euro per 7 anni e quello pubblicato dal Comune per la gestione del servizio di raccolta differenziata. Tante le novità previste per potenziare la raccolta. Il prossimo 6 di novembre scadrà il termine che le ditte hanno per presentare la propria offerta. Questa mattina l'assessore del Comune di Chieti, Bevilacqua, ne ha illustrato le linee guida. Sentiamo. Migliorare il servizio di igiene urbana della città, forte dell'esperienza amministrativa di questi anni, dimandato il Comune di Chieti ha illustrato le linee guida del nuovo bando di gara per la gestione della raccolta rifiuti della città e la pulizia. A mezzogiorno del prossimo 6 novembre scadrà il termine entro il quale le ditte interessate possono presentare l'offerta. Nel nuovo bando si prevede un rafforzamento del servizio di innaffiamento e lavaggio delle vie della città, la gestione del piano neve con l'aggiudicatario che dovrà provvedere alla pulizia in caso di precipitazioni nevose. Circa la raccolta differenziata, la ditta vincitrice dovrà realizzare fino a quattro isole interrate in altrettanti punti individuati da Comune e Sovrintendenza dei Beni Archeologici, così da incentivare la differenziata nel centro storico e nella parte alta della città, dove i numeri sono inferiori a quelli ottimi registrati allo scalo e nelle periferie. Un aspetto saliente sarà la costruzione di un impianto di riuso. Lì il rifiuto prende un'altra strada, non va più a smaltimento o verso i consorsi di filiera dove comunque finisce la sua vita da bene, ma viene reintegrato, rimesso nel ciclo produttivo. E qui tocchiamo anche il sociale, andiamo verso le esigenze delle famiglie meno abbienti, soprattutto in questo periodo sappiamo quanto è difficoltoso comunque andare avanti sotto il punto di vista economico e finanziario, quindi nascerà un vero e proprio baratto. all'interno del centro di riuso ci saranno beni ancora spendibili, beni ancora riutilizzabili che verranno fondamentalmente barattati con altri beni che entreranno all'interno del centro di riuso stesso. Saranno implementati anche i controlli verso chi infrange le regole e scarica i rifiuti abusivamente. La giudicataria dovrà sistemare una serie fittissima di telecamere in punti nevralgici della città, previsto anche l'uso di droni. Per controllare le parti anche meno raggiungibili dall'essere umano oppure dove non puoi installare una telecamera. Io penso che dopo questo fitto controllo a tappeto sicuramente scoveremo maggiormente trasgressori che spesso abbandonano rifiuti, sanzionati e quindi sarà una risorsa ulteriore per il nostro comune che verrà riversata comunque come risorsa economica ancora per cercare di sensibilizzare il cittadino a curare meglio l'ambiente che ci circonda. Ed ora come ogni lunedì apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Iniziamo dal calcio di Serie B. Un brutto Pescara perde la sua seconda partita in campionato. All'Adriatico passa il Cittadella che ipoteca il successo con due reti nei primi 20 minuti. Inutile il gol su rigore di Benali alla fine del primo tempo perché la rimonta non è riuscita. Pescara confuso e lontano dalle idee di gioco di Zeman. Sentiamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Il pranzo non è servito e va anzi di traverso ad un Pescara ancora poco zemaniano che nel match lunch delle 12.30 ha lasciato l'intera posta ad un Cittadella ben messo in campo e bravo ad approfittare soprattutto nella prima mezz'ora degli errori dei Biancazzurri che poi nella ripresa hanno provato a trovare il pareggio mancando anche qualche ghiotta opportunità per la squadra abruzzese quella contro i Veneti è stata la seconda sconfitta della stagione dopo il K.O. del Renato Curi di Perugia. Zeman che deve fare a meno ancora una volta di diversi elementi perde alla vigilia anche coda per influenza e porta per rotta non al meglio in panchina per onor di firma al posto del nazionale Caponece Benali. Diverse assenze anche fra i Veneti. Panchina per l'ex Lucas Chiaretti che entrerà poi nella ripresa. Di fronte ad 8.000 spettatori si comincia gli ordini del signor Gersini di Genova pronti via e Cittadella in vantaggio al secondo con Adorni che di testa salta indisturbato in area su angolo battuto da Bartolomei. Avvio a sciocche per i Biancazzurri subito sotto e costretti a rincorrere gli avversari. Ile Pescara l'occasione giusta però per pareggiare al nono con Benali che in area trova la respinta miracolosa di Alfonso che salva porta il risultato. L'atteggiamento aggressivo e la difesa alta dei Veneti creano problemi al Delfino che fatica a proporre gioco e che subisce il raddoppio del Cittadella al diciottesimo con Siega che se ne va da solo in contropiede sul filo del fuorigioco andando poi con un tiro ad incrociare a battere per la seconda volta l'incolpevole Pigliacelli. Stadio adriatico ammutolito ed incredulo al cospetto di un Pescara imbarazzante e quasi mai capace di impegnare il portiere ospite fino al trentasettesimo quando Salvi va a commettere fallo in area di rigore su Mazzotta. Gherzini bene piazzato indica il dischetto con Benali che con un pizzico di fortuna batte Alfonso per il gol del 2-1. Al trentanovesimo Quame crea un brivido dalle parti di Pigliacelli con Bovo che riesce a salvare ma la squadra di Venturato in giornate al quarantesimo ancora Quame ad impegnare il portiere Biancazzurro. Nelle finali di tempo non accade più nulla al di là di qualche scontro piuttosto duro in mezzo al campo fra i giocatori delle due squadre nella ripresa si riparte con gli stessi protagonisti della prima parte di gara e con i Biancazzurri più intraprendenti all'undicesimo e Zampano a fare tutto bene prima di sparare alto dall'interno dell'area di rigore. E' un Pescara sicuramente diverso da quello dell'avvio di gara ma confusionario e che comunque spinge quando può. Al diciannovesimo sembra fatta con Zampano che crossa nell'area piccola per Pettinari che in scivolata mette di un soffio a lato prima di essere sostituito da Gans con Venturato che risponde gettando nella mischia l'ex Lucas Chiaretti per Siega e poi Arrighini per Strizzolo. In campo la gara resta aperta con il Pescara che rischia ma che spinge e che al trentatresimo si divora il gol del pareggio con Benali. Zeman tenta il tutto per tutto mandando in campo Crescenzi e Cappelluzzo per Del Sole e Mazzotta. Il Pescara a trazione anteriore spinge più con la forza della disperazione che con la lucidità ma il risultato non cambia con il punteggio che così sorride ai Veneti vincitori per la prima volta nella loro storia allo Stadio Adriatico. Continuiamo la nostra panoramica sulle partite di ieri. Scendiamo in Serie C. Un gol di Foggia all'ultimo assalto consente al Teramo di strappare il quarto pareggio di stagione ed uscire indenne dal campo dell'ex capolista Bassano. Prova positiva per i biancorossi di Asta che non avrebbero meritato la sconfitta. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Un Teramo solido sfrontato strappa un punto al mercante di Bassano dopo una prova convincente e che comunque stava quasi per condannarlo. Serve il guizzo multiplo di Caidi e Foggia che si contendono la paternalità di una rete che gli almanacchi regaleranno solamente alla punta ma che per gran parte merito del difensore centrale. Asta cambia la formazione come nelle previsioni ma tenendo il 3-5-2 come modulo di riferimento. Sales fa il terzo di difesa mentre Varas fa il quinto a sinistra. L'inserimento di Graziano pare subito pagare perché l'ex Renate dopo 13 secondi va vicino al gol dell'immediato vantaggio. Ancora Graziano al settimo su traversione dalla sinistra di Varas. La testata non inquarra lo specchio della porta. Barbuti preferito a Foggia dal primo minuto si fa notare per un destro fiacco al diciassettesimo. La risposta del Bassano è affidata alla punizione insidiosa di Minesso al ventunesimo su cui calore è super nell'intervento. Parte centrale del Bassano con Bianchi che gira col sinistro alto sopra la traversa un traversone da sinistra di Salvi. Nell'intervallo però Asta mette mano alla panchina. Altobelli entra al posto di ventola Sales e si alza nei 5 di centrocampo. Con Sumarecchi in apertura di ripresa cicca il pallone al limite dell'area di rigore per la facile presa di Grandi ma è clamorosa l'opportunità che Barbuti fallisce al 56esimo. In un entrato Foggia per Sumarecchi pesca Barbuti in posizione e la linea di difensori di casa è impreparata. La punta controlla il pallone ma al momento di calciare col destro la sua conclusione viene smorzata da botta in sciola. Il Teramo non punge a sufficienza e quando il gol non arriva spesso il diavolo è costretto a chinare la testa. Al 73esimo traversone di Laurenti per Grandolfo che forse è in posizione di fuorigioco. La palla filtra per Michael Fabbro che gira le spalle di calore e il pallone che gela il Teramo dopo una buona partita e con soli 17 minuti più recupera ancora da giocare. Al minuto 84 ci prova anche l'ex di turno Francesco Carcalis a dar fastidio a calore. Nel Teramo entra anche Bacio Terracino stoppato al 91esimo al momento di battere a rete. Tutto rimandato di qualche giro di lancette perché al minuto 95 Varas scodella un pallone che è una preghiera. Speranza spizza e Caidi colpisce come può servendo di fatto Foggia che da zero metri regala la parità alla formazione di Asta che scendene dallo stadio mercante ritrovando in un colpo solo il suo attaccante secondo gol in campionato e primo su azione dopo il centro dal dischetto con Ravenna. Pregio meritato dunque che il Teramo prenda e porta sul pullman che lo riporta in Abruzzo. In una settimana tre gare e tre punti. Non sarà il massimo ma continuando con questo spirito la vittoria non può che essere dietro l'angolo. Scendiamo ancora di categoria andiamo in Serie D iniziamo dalla partita giocata sul neutro di Pineto fra San Nicolò e Vastese con la Vastese che si è giudicata l'unico derby della sesta giornata la squadra di Colavitto è riuscita a ribattare l'iniziale svantaggio mattatore della partita Fiore per lui un gol un palo e l'assiste per il gol partita vediamo insieme il servizio. Va alla Vastese l'unico derby della sesta giornata la squadra di Colavitto torna al Mariani Pavone di Pineto ma al contrario di quanto accaduto contro la squadra locale questa volta riesce ad espugnarlo e a condannare alla sconfitta il San Nicolò costretto ad emigrare anche dal campo di Morodoro per il contestuale impegno casalingo della compagine morrese all'undici dell'ex Luca Campanile non è bastato andare in vantaggio ad inizio partita ed ha subito il colpo del K.O. al fotofinish senza Gori, Tersini e Marra il San Nicolò si ritrova anche senza Di Benedetto in extremis per attacco febbrile Petronio parte dalla panchina con il Baby 2001 Fabriani in campo dal primo minuto Colavitto ha invece il pieno organico a disposizione pronti via dopo sei minuti San Nicolò è già in vantaggio con un preciso colpo di testa di Tedesco su Tross di Maisto ma la Vastese non ci sta a questa situazione di svantaggio e reagisce prontamente con una conclusione dell'ex Stivaletta al tredicesimo ben parata da Di Berardino l'estremo San Nicolese due minuti dopo rischia però di combinarla grossa quando dopo un retropassaggio di Indiae cincisca un po' troppo e si fa soffiare palla da Leonetti il quale sbaglia clamorosamente il pallone dell'1-1 dopo un avvio vivace la gara si assesta sull'equilibrio e bisogna attendere il trentatresimo per annotare la conclusione sull'esterno della rete di Massetti sugli sviluppi di un corner ma due minuti dopo arriva il pareggio Nicola Fiore si esibisce con la sua specialità calcio piazzato sul quale Di Berardino non sembra del tutto esente da colpe e così uno a uno prima dell'intervallo ci riprova ancora Massetti che raccoglie la corta respinta con i pugni di Camerlengo ma il suo tiro si perde di poco sopra la traversa il San Nicolò è sovente pericoloso sui calci d'angolo così come viene al nono minuto della ripresa ma sul tentativo di deviazione di De Santis si salva la difesa bianco-rossa un minuto dopo risponde la vastese con un contropiede impostato da Fiore per Cristaldi che seppur ostacolato conclude ma Di Berardino farà bene Fiore è ispiratissimo e al quarto d'ora impegna ancora severamente Di Berardino a metà tempo si mettono in evidenza i cambi di Campanile De Carolis appoggia per Petronio che dal limite chiama Camerlengo alla presa a terra occasionissima vastese al trentasesimo a fondo e cross di Bittaglia il solito Fiore fa tutto bene rientra e calcia ma centra in pieno un incrocio dei pari nel finale la gara come detto si risolve al quarantatresimo la rovesciata di De Carolis fuori misura al quarantaquattresimo il gol partita lo ispira ancora lui Fiore il cui cross è un invito a nozze per Leonetti che riscatta l'errore del primo tempo e griffa il gol partita non c'è più tempo per il San Nicolò che incassa il secondo stop consecutivo ma stavolta lottando al contrario di quanto accaduto a Castelfidardo per la vastese è la terza vittoria in campionato la prima lontano dall'Aragona che la proietta a ridosso delle squadre migliori del campionato ancora serie di botte e risposte nei primi minuti fra Iesina e Pineto al Carotti finisce uno ad uno il servizio di Roberta Di Sante al Pacifico Carotti termina uno a uno tra Iesina e Pineto al termine di una gara godibile che entrambe le formazioni cercano di vincere Gianangeli schiera un 4-4-2 con Carotti e Magnanelli nel cuore del centrocampo mentre in avanti la coppia d'attacco è composta da Trudo e Pierandrei Amaolo per la prima volta in stagione riesce a schierare la stessa formazione che domenica scorsa ha battuto la Vispesaro un 4-2-3-1 con Zane ed Esposito sulla mediana e Di Rocco Mariani e Pezzotti alle spalle del centravanti Gragnoli avvio di gara scoppiettante ed è subito botta e risposta al terzo minuto il solito Pezzotti anche oggi autore di una buona prova se ne va sulla sinistra e mette in mezzo un buon pallone per Mariani bravo ad agganciare e superare Tavoni firmando la sua prima rete stagionale il vantaggio pinetese dura però solo 4 minuti al settimo infatti la Jesina pareggia i conti con Trudo che raccoglie il cross di Parasecoli e piazza il tiro di incrociare la gara è viva e gli abruzzesi tengono bene il campo esprimendo un buon calcio e al ventesimo sfiorano il raddoppio Zane pesca ancora Pezzotti sulla sinistra che piazza un altro buon pallone ma Gragnoli non riesce a girare con efficacia e la sfera termina tra le braccia di Tavoni insistono i biancazzurri autori di un buon primo tempo al ventinovesimo Pezzotti scarica al limite dell'area Perzane ma la conclusione è alta alla mezz'ora si rivede la Jesina con una punizione a giro di Anconetani fuori il bersaglio l'ultima occasione dei primi 45 minuti è per Parasecoli ma la sua girata non porta i frutti desiderati in avvio di ripresa cambio di modulo per Gianangeli che richiama se Silvestri arretra in difesa Cameruccio e inserisce Giovannini trequartista dietro le due punte per creare maggiore movimento tra le linee ma la prima vera occasione è per la squadra di Amaolo al quarto tross di Di Rocco per Pezzotti la conclusione è la respinta di Tavoni scampato il pericolo però la Jesina si assesta e col passare dei minuti viene fuori al nono Trudo lanciato sul filo del fuorigioco calcia in maniera sporca facilitando la presa di Giacchetta clamoroso all'undicesimo quando ancora Trudo crea scompiglio sulla destra e fa partire un assist al bacio per la testa di Pierandrei che da due passi c'entra in pieno la traversa sul fronte opposto al quarto d'ora è legno anche per Gragnoli che fa tutto bene salvo poi calciare sul palo episodio che potrebbe essere decisivo al diciottesimo quando il direttore di gara Zucchetti di Foligno ravvisa con la massima punizione una scorrettezza di Fiumara su Trudo lo stesso attaccante però dagli undici metri si fa ipnotizzare da Giacchetta che respinge conservando il pane la reazione del Pineto non si fa attendere prima Esposito Arpiona e mette in area un buon pallone per Gragnoli che però viene anticipato poi lo stesso Gragnoli è sfortunato quando dopo una bella azione corale c'entra in diagonale il secondo legno di giornata in pieno recupero ci prova anche Napolano ma la conclusione a giro centrale è preda di Tavoni non ce la fa dunque il Pineto pur offrendo una buona prestazione ad andare oltre il pari contro la Jesina ma riesce ad ottenere comunque un punto che dà continuità alla vittoria di domenica scorsa in vista della gara contro la San Giustese il Valle Anzuca continua ad essere terra di conquista questa volta il Castelfidardo ad espugnare lo stadio di Francavilla risolve un guizzo di Montagnoli nel primo tempo per la squadra di Ervese le partite casalinghe restano un tabù pesano anche le tante assenze il servizio di Stefano Recanati per la sesta giornata del campionato di serie di Girone F si affrontano Francavilla e Castelfidardo la squadra del presidente Candeloro vuole riscattare la sconfitta subita a Campobasso domenica scorsa ma soprattutto vuole regalare la prima gioia interna ai propri tifosi ma deve fare a meno degli assenti Banegas Fofanà Duro Silvestri Molenda Cichella di Sabatino Castelfidardo arriva al completo al Valleanzuga per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa con il San Nicolò parte subito forte il Francavilla dopo due minuti con Procida che colpisce il palo alla sinistra di Selvaggio dopo una bella azione a due totti partita dalla difesa partita subito bella a ritmi elevati al sesto minuto risponde subito il Castelfidardo con il numero 10 Grazioso che calcia dalla distanza con la sfera che per poco non sorprende il numero 1 di casa Spacca al decimo il gol del Castelfidardo con Montagnoli che approfitta di un errore della difesa locale e batte la distanza ravvicinato Spacca subito la reazione del Villa che al tredicesimo minuto va vicino al pareggio con Palumbo che tira dalla distanza senza impensierire il portiere ospite dopo un avvio ricco di emozioni calano i ritmi della partita ma il Villa dà l'impressione di poter arrivare al pareggio minuto 30 si rivede il Castelfidardo punizione battuta corta riceve l'autore del gol Montagnoli che ci prova dal vertice parra a terra Spacca al minuto 35 la squadra di Ervese chiede il rigore per un fallo di mano del numero 5 Giovagnoli in aria ma non è dello stesso avviso con gli acco di Bari così come al trentanovesimo alto tiro dalla distanza ancora tocco di mano dubbi in aria del Castelfidardo ma anche questa volta per il giudice di gara non ci sono gli estremi per decretare il calcio di rigore tra la protesta dei giocatori e dei difossi di fede locale al quarantesimo l'ultima azione del primo tempo punizione per il Francavilla schema che trova Palumbo stoppa di petto si gira e calcia ma la palla finisce al lato della porta difesa da Selvaggio la ripresa si apre subito con il cambio per Castelfidardo con Borghese che rileva il numero 10 grazioso al settimo ci prova Mihailov per il Castelfidardo ma il gioco era fermo per fuorigioco all'undicesimo ancora Castelfidardo con Lispi che prova la botta al limite e palla che si spegne di fuoco fuori la testa di Spacca il Villa ci prova con giocate che risultano molto confusionare Castelfidardo che aspetta e cerca di ripartire in contropiede al minuto 14 ancora dal limite il Castelfidardo con Trillini Spacca che pare a terra al sedicesimo doppio cambio per il Villa escono Mele e Fiore ed entrano di Pietrantonio e Mancini per dare più vivacità all'attacco al diciannovesimo ancora Castelfidardo vicino al raddoppio con Trillini supera due avversari ma tu per tu con Spacca si fa respingere il tiro al ventesimo ancora Castelfidardo con Mihailov ancora tu per tu con Spacca ma anche lui si fa pulizzare mantenendo a galle i suoi minuto 30 si rivede davanti il Francavilla con Dipinto che riceve palla dalla tre quarti porta avanti calcia con il pallone che si perde di alto sulla traversa al quarantatresimo l'occasione più ghiotta Silvaggio non inquadra lo specchio della porta poteva essere l'occasione del pareggio dopo quattro minuti di recupero il signor Vogliacco di Bari decreta la fine della partita con il Castelfidardo che espugna il Valleanzura e va a festeggiare con i propri tifosi piccola contestazione da parte di tifosi locali a fine partita per gli uomini di Mister Iervese con il Valleanzuca che resta ancora tabù e domenica prossima trasferta sul campo della Re Canatese ed è tutto anche per questa edizione del TG6 io vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili sulla pagina YouTube della nostra emittente anche sul sito internet www.tv6.it servizi visibili anche in alta definizione è davvero tutto grazie per essere stati con noi arrivederci grazie per la visione